Questo festival è stato dedicato alla parità di genere e il simbolo di questo festival è Marlene Dietrich, che è stata la prima donna a cui è stata attribuita la Medal of Freedom e la Ligion d'Onore dalla Francia proprio per la battaglia contro il nazismo. E ci è sembrato un simbolo adatto a questa tematica, a questo filo rosso che tiene insieme tutti gli interventi, anche se ovviamente con Cottarelli si parlerà di economia e politica ovviamente, però una domanda gliela faremo sulla parità di genere. Io do la parola a Giuseppe Castellini, che è un giornalista economico, per cui è molto adatto a fare questo tipo di intervista. Io ringrazio molto Galeotti Editore, Carlo, che mi ha invitato perché è un piacere poter intervistare Carlo Cottarelli, che tra l'altro è la quarta o quinta volta che intervisto, una specie di stalker ormai per Cottarelli. Due parole, non credo ci sia bisogno di presentazione di Carlo Cottarelli, lui è stato un alto dirigente del Fondo Monetario Internazionale, poi ha fatto tante cose, è stato incaricato per quattro giorni, è un pezzo anche del libro appunto, di formare il governo, è incaricato dal Presidente Mattarella, non so se vi ricordate, 2018-2019, le elezioni c'erano a marzo 2018, quindi sì, 2018. Grande commentatore, direttore è stato dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani, che io saccheggiavo anche quando facevo direttore del giornale dell'Umbria, perché pieni contenuti, insomma personaggio di primissimo piano e anche se lui, non so se ci si ritrova, è definito ormai una delle riserve della Repubblica, cioè quella è pronta a entrare in campo se le cose proprio si mettono male male. Bene, allora, io però prima di parlare del libro vorrei chiedere, visto che insomma facciamo i giornalisti, quindi l'attualità prevale sempre, a Cottarelli una valutazione, oggi la Banca Centrale Europea ha ridotto di 0,25 punti base i tassi di interesse fondamentalmente, quindi si riduce il costo del denaro, è la terza riduzione complessivamente da giugno ad oggi, si sono ridotti di 0,75. Una valutazione su questo e sugli effetti che può avere sull'economia italiana? No, dunque ha fatto bene, la Banca Centrale Europea ha ridotto i tassi di interesse, io fra l'altro sono tra quelli che nel 2021 invece pensavo che la Banca Centrale Europea dovesse aumentare i tassi di interesse e non li aumentava, quindi non è che io sono sempre una colomba, ma dipende dalle circostanze, i tassi di interesse una volta vanno aumentati se l'inflazione è troppo alta, l'inflazione adesso è scesa, siamo arrivati già più o meno all'obiettivo del 2% della Banca Centrale Europea e quindi era tempo di ridurre i tassi di interesse. Oggi fra l'altro sono usciti i dati di settembre, o meglio i dati rivisti, finali di settembre sull'inflazione settembre e è l'1,7%, in linea di principio questo è al di sotto addirittura dell'obiettivo del 2%, ma questo è dovuto semplicemente al fatto che nel settembre dell'anno scorso c'era stato un aumento particolarmente forte di prezzi, quindi su 12 mesi il tasso di crescita è sceso. La Banca Centrale Europea ha già chiarito non spaventatevi se in ottobre l'inflazione a 12 mesi torna a essere sopra il 2%, non è che c'è un'accelerazione, è soltanto che non c'è più questo effetto di base. L'inflazione in realtà sta continuando a scendere gradualmente, guardando i dati mensili, quindi siamo sulla strada giusta, era ora di abbassare i tassi di interesse, che effettua questo sull'economia italiana, quando i tassi di interesse scendono è più facile prendere a prestito soldi, le imprese hanno più possibilità, spendono meno sul loro debito, lo Stato italiano spende meno sul loro debito, ovviamente chi ci rimette sono quelli che investono i risparmiatori perché il loro risparmio sarà remunerato a tassi più bassi, bisogna trovare il giusto equilibrio, credo che sarebbe un errore tornare al mondo in cui avevamo tassi di interesse zero, come è stato per un po' di tempo. Sì, è un periodo eccezionale, quindi lei pensa che a dicembre ci sarà un altro taglio di 0,25, è probabile? Ma dunque, sono due mesi, novembre e dicembre, non credo che ce ne sarà un altro novembre e uno dicembre, forse tra i due mesi una novembre e una dicembre, dipende, però dipende appunto dalle informazioni che sta in la gala, il Presidente della BCE ha sottolineato ancora una volta che loro dipendono dai dati, questo può sembrare una banalità, però vuol dire che loro non hanno idee prefissate e se ci sono segnali che l'infezione sta scendendo o addirittura sta scendendo troppo rapidamente a questo punto un taglio ulteriore dei tassi è giustificato. Senta, un'altra domanda sulla dualità, poi parliamo ovviamente di questo bel libro dentro il palazzo. Stamattina è uscito su Repubblica un suo articolo sulla manovra, in sintesi, se dovesse insomma proprio sintetizzare il senso di quell'articolo, qual è il suo giudizio sulla manovra economica del governo? Ma insomma, il governo è abbastanza prudente con i conti pubblici, per la prima volta c'è stato un esempio in cui c'era un tesoretto da spendere quest'anno, le cose andavano meglio del previsto e il governo invece di spendere lo ha risparmiato, cosa che non so quanti anni era che è successa una cosa io non me l'aspettavo, l'ha fatto, quindi è abbastanza prudente Giorgetti che è la stessa Presidente del Consiglio su questa cosa. La manovra di per sé non cambia moltissimo perché molte cose che vengono presentate come manovra in realtà semplicemente sono conferme di quello che già c'era. Se noi guardiamo il quadro generale il rapporto tra spesa pubblica e dimensione dell'economia, il PIL, rimane più o meno costante a livello di quest'anno, cioè rimarrà, il 2025 sarà più o meno come il livello del 2024. Sul lato delle entrate, paradossalmente c'è un aumento delle entrate, quindi la riduzione del deficit non è guidata da un taglio di spesa ma da un aumento delle entrate rispetto a quest'anno che non è chiarissimo a cosa è dovuto, c'è una voce chiamata altre entrate che va su e non è chiarissimo cosa sia. L'ho spiegato l'articolo, ma adesso potremmo solvolare, io nell'articolo lo spiega, da che cosa potrebbe derivare. Sì, beh, quello lì è un'altra questione, oltre a questo aumento delle altre entrate c'è anche il fatto che in generale le entrate quest'anno vanno meglio del previsto e il governo prevede che il prossimo anno vada ancora meglio del previsto. Sono degli elementi di incertezza, però grossomodo questa manovra non cambia moltissimo le carte in tavola, c'è una piccola riduzione del deficit che va nella direzione giusta. Allora, entriamo adesso nel libro, lo ricordo, Dentro il palazzo, cosa accade davvero nelle stanze del potere. Intanto c'è da dire, e l'avete già sentito, che Cortarelli andrebbe insignito della tessera professionale dei giornalisti perché oggi il giornalismo è diventato soprattutto cosiddetto fact checking, cioè avete visto anche nel dibattito che c'è stato tra Trump e la Harris, i giornalisti, Trump ha detto una cosa, hanno detto no no, insomma l'hanno smentito. Cioè, nella marea enorme di informazioni che abbiamo, qualcuno che ci dice questo è vero, questo non è vero, o le cose stanno così e poi tu ti fai un giudizio. Cortarelli, anche nei libri precedenti, perché ho dimenticato di dirlo prima, ma ha scritto moltissimi libri, molto belli, di grande successo, sulla spesa, tra l'altro lui è chiamato Mani di forbice perché fu chiamato nel governo Letta, commissario alla spending review, quindi alla nazionalizzazione della spesa di cui parla nel suo libro. Due parole sul libro, poi facciamo subito le domande. È divisa fondamentalmente, secondo me, in tre parti, in realtà in due, ma secondo me in tre. Nella prima lui individua tutta una serie di problematiche che riguardano appunto come davvero funziona il palazzo, le scelte, eccetera, eccetera. Nell'altro individua una serie di soluzioni, 5 aree e 14 proposte. Nel terzo racconta, infatti lo chiama lato B, la sua esperienza da Presidente del Consiglio incaricato, l'esperienza di quattro giorni. Allora, io però vorrei farle subito una domanda che riguarda la prima parte. Insomma, lei individua delle tendenze, no? Mi pare 5 tendenze fondamentali. Quali sono quelle più gravi, secondo lei, per il Paese a cui bisogna mettere mano? No, parlando del funzionamento delle nostre istituzioni, del nostro Parlamento, in realtà la tendenza principale, che vale la pena di sottolineare, è una, che poi si manifesta attraverso diversi strumenti, ma la tendenza generale è quella di una progressiva perdita di rilievo del Parlamento rispetto al Governo. Allora, se voi pensate alla classica ripartizione dei poteri di Montesquieu, il potere esecutivo ce l'ha il Governo, il potere legislativo ce l'ha il Parlamento, il potere giudiziario ce l'ha la magistratura, bisogna tenere separati questi tre poteri, altrimenti si arriva a uno Stato diciamo dittatoriale, volendo un po' semplificare le cose. sempre più il potere esecutivo sta prendendo controllo sul potere legislativo. Il nostro Parlamento ratifica quello che fa il Governo, ma ben difficilmente fa qualcosa di propria iniziativa. E questo si realizza, parlando appunto di diverse tendenze, attraverso tre tendenze, più una quarta cosa che poi voglio dire. La prima è quella dell'eccesso, tendenza a eccedere, nei decreti legge. I decreti legge sono atti che scrive il Governo, emane il Governo e hanno forza di legge, sono consentiti in caso di urgenza, ma quando io ho finito di scrivere quel libro, questo Governo aveva emanato un decreto legge alla settimana. C'è sempre un'urgenza. Adesso si fanno i decreti omnibus addirittura, in cui ci si mette dentro di tutto, anche chiaramente cose che non sono urgenti. Secondo, c'è la tendenza frequente a chiedere la fiducia, collegare l'approvazione di una certa legge alla fiducia al Governo. Quando il Governo chiede questa cosa, questo interrompe la discussione parlamentare. Su un certo provvedimento si va direttamente al voto. E di nuovo quindi toglie al Parlamento la possibilità di fare emendamenti alla legge. Il terzo strumento, forse ancora più pericoloso, è quello dell'abuso, o meglio della forma, che stanno prendendo le leggi delega. Le leggi delega sono leggi approvate dal Parlamento, in cui il Parlamento delega il Governo a scrivere le leggi, o meglio a emanare decreti legislativi che hanno forza di legge. Ora, voi capite i rischi che ci sono dietro a questa cosa. Adolf Hitler divenne dittatore perché il Parlamento tedesco delegò al Cancelliere il potere di scrivere le leggi. Nella nostra Costituzione le leggi delega sono consentite, purché il Parlamento indichi i principi che il Governo deve seguire nello scrivere questi decreti legislativi. Lo si dovrebbe fare in aree che sono particolarmente tecniche, ma comunque con principi ben definiti. Il problema è che questi principi sono diventati sempre più indefiniti, sono dei paletti troppo larghi in cui ci può entrare qualunque cosa. Un esempio l'abbiamo avuto con l'approvazione della legge delega sul fisco l'anno scorso, sulla base del quale il Governo sta emanando tra i 10 e i 15 decreti legislativi. Non ricordo il numero esatto. In questa legge i principi erano molto vaghi. Cosa vuol dire vaghi? Cos'è l'unica cosa che conta in fondo in un sistema fiscale? Quante tasse voi pagate o noi paghiamo? Quante tasse noi paghiamo dipende da questi numeri che noi chiamiamo aliquote di tassazione, che vi dicono che per esempio sul vostro reddito pagate il 30% va in tasse oppure il 40%, quegli numeri che vi dicono che su un certo bene di consumo l'IVA è il 22%, su un altro il 10%, quei numeri che vi dicono che in Italia attualmente le imprese pagano, le società pagano il 24% dei loro profitti in tasse. ebbene nella legge delega non ci sta neanche uno di questi numeretti, neanche uno e quindi il Parlamento ha delegato al Governo il potere di determinare il livello della tassazione e la sua progressività nel nostro Paese, cosa che dai tempi della Magna Carta. l'aspetto principale del potere legislativo, l'aspetto principale del potere di un Parlamento è quello di definire il livello della tassazione e il Parlamento italiano ha rinunciato a questo potere. Uno può dire sì è vero però l'ha rinunciato di propria volontà e chi può impedire al Parlamento che è sovrano di rinunciare al proprio potere? Infatti il fatto che la Costituzione lo definisce, ci devono essere questi principi. Però c'è anche un altro fatto che spiega perché il Parlamento italiano così facilmente ha delegato il potere di scrivere per esempio la riforma del fisco al Governo e questo non ha a che fare con il meccanismo di approvazione delle leggi, ma ha a che fare con un'altra cosa molto importante, cioè ha a che fare con il nostro sistema elettorale. Noi da anni non possiamo più esprimere preferenze su chi ci rappresenta. Il massimo che possiamo fare è mettere una X sul simbolo del partito, ma non possiamo dire io voglio essere rappresentato da questa persona. E allora chi è che va in Parlamento? Chi viene messo dal capo del partito in cima alla lista elettorale. Se tu sei in cima alla lista e il partito diceva un certo numero di volti, va in Parlamento. Allora guarda caso chi finisce in Parlamento deve avere una caratteristica principale, cioè quella di essere fedele al capo del partito. Per cui va in Parlamento chi ha questa capacità di obbedire agli ordini poi del capo del partito. E abbiamo avuto esempio di nuovo recente di questa tendenza semplicemente a prendere ordini dal Governo o dal capo del partito con l'approvazione dell'ultima legge di bilancio. Adesso si sta discutendo la legge di bilancio per il 2025, ma quella per quest'anno, per il 2024, è stata approvata più o meno l'anno scorso. Il Governo ha scritto il disegno di legge, questo è normale, l'ha mandato in Parlamento e ha ordinato, cosa mai successa da quando c'è la Repubblica, ha ordinato a tutti i parlamentari di maggioranza di non presentare neanche un emendamento. E i parlamentari di maggioranza hanno obbedito tutti, tranne il senatore Romeo, capogruppo della Lega al Senato che aveva presentato tre emendamenti, gli hanno fatto togliere pure quelli. Lui aveva detto, ma io pensavo che due o tre si potessero presentare, no neanche quelli. Siccome poi gli emendamenti dell'opposizione sono sempre rigettati sistematicamente, questo vuol dire che dalla prima all'ultima riga la legge di bilancio per quest'anno, capite l'importanza di questa legge, è stata scritta interamente al Governo senza che il Parlamento potesse metterci in mano. Qui allora la domanda maligna, perché Cottarelli è stato eletto parlamentare nelle ultime elezioni, ma si è dimesso da parlamentare dopo otto mesi. Perché? Perché io credo dietro ci sia questo, l'inutilità, c'è un'alterazione ormai di fatto degli equilibri, è gravissima tra Governo e Parlamento, credo anche non solo in Italia ma particolarmente in Italia. Qual è stato il motivo però scatenante che a un certo punto dopo otto mesi ha detto io me ne vado. Dunque c'era chiaramente uno stato di insoddisfazione perché mi sembrava di stare lì a scaldare la sedia. Lo stipendio è buono, poi magari ve lo racconto. Allora lui riporta anche queste cifre, 12 mila euro netti. Sì ma ci sono anche tante altre cose che sono di 10 mila euro netti. Lo stipendio è buono, però stai lì a scaldare la sedia per la maggior parte del tempo. Poi l'elemento scatenante è stato che io ero stato eletto nel gruppo del Partito Democratico che era ancora guidato dai principi fondatori del 2008 in cui io che sono liberale in qualche modo mi potevo riconoscere. Si parlava di merito, si parlava di uguaglianza e di opportunità. Per me la giustizia sociale è prima di tutto dare un'opportunità a tutti e poi però devi lasciare operare il criterio del merito. Cosa è successo poi? Che a inizio 2023 un gruppo di 80 esperti ha riscritto i principi del Partito Democratico senza abolire quelli vecchi, ma ne ha presi in giro perché non puoi avere i principi vecchi e quelli nuovi al tempo stesso, soprattutto quando si contraddicono e nei principi di inizio del 2023 il criterio del premio al merito e dell'uguaglianza e opportunità era se non ridicolizzato per lo meno ignorato. Nel programma con cui Ellis Lai si è presentata alle primarie c'era chiaramente una critica al criterio dell'uguaglianza e opportunità e del primo al merito perché tanto non si può avere uguaglianza e opportunità. L'unica cosa che bisogna fare è redistribuire. Io non mi riconoscevo più in queste cose, poi c'erano stati casi concreti in cui io mi ero in pratica dissociato da quello che avevo preso posizioni diverse pubblicamente a quelle del Partito Democratico. Potevo restare in Parlamento, non dovevo dimettermi, però perché non c'è il vincolo di mandato, potevo cambiare casacca, ma a me non sembrava giusto fare questo perché io non ero stato eletto come Carlo Cottarelli, ero stato eletto perché hanno messo in alto nella lista a Milano, quindi la gente non aveva votato me. Quello era un posto, un seggio del Partito Democratico, quindi dimettendomi io, io entravo la prima dei non eletti, quindi mi sembrava giusto fare così. Rimanendo sempre... Applausi Cottarelli è abituato agli applausi, ricordo un episodio quando è stato incaricato appunto di formare il governo, dopo quattro giorni si presenta, rinuncia e e per la prima volta non era mai successo che i giornalisti, che vi razza dannata che siamo, facessero un applauso corale a Carlo Cottarelli perché come vedete è una persona franca, per bene e quindi se lo merita. Qui si potrebbero andare avanti davvero per ore, però qualcosina dobbiamo tirarla fuori e sceglierla. Mi è venuto questo, ho letto pochi giorni fa, che noi abbiamo, le si chiamano spese fiscali, in realtà sono agevolazioni fiscali per circa 150 miliardi l'anno. Ecco, nel libro Cottarelli tratta anche il tema delle lobby, in Italia non c'è una legge sulle lobby, di questi 150 miliardi quanti li spendiamo perché ogni lobby, anche legittimamente, si prende ognuno un pezzettino. Ricordo per esempio che i professionisti, gli avvocati hanno una specie di salario minimo, cioè il minimo, che non ce l'ha nessuno. Cioè il salario minimo ai lavoratori no, ma gli avvocati il minimo professionale nella tariffa, sì, lì la concorrenza non funziona. No, valendo tutti quei soldi vanno a difesa di un gruppo particolare, però non c'è niente di sbagliato nell'avere i lobbysti, cioè andare, i lobbysti sono quelli che vanno a parlare a contatto con i parlamentari per cercare di sostenere una certa posizione. Il parlamentare deve parlare con tutti, non è che può rimanere chiuso nelle stanze del Senato e non vedere nessuno. Quindi è giusto che ci siano portatori di interessi. Quello che è diverso in Italia rispetto agli altri paesi è che non c'è una regolamentazione, mentre negli altri paesi ovviamente ci sono regole. Ci sono stati più di 97 tentativi di introdurre in Italia una regolamentazione sui lobbysti che dicessero regolamentazioni su cose banali, non so se tu sei stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione non puoi fare il lobbysta. Se tu vuoi andare a vedere un parlamentare tutto deve essere trasparente, i temi che avete parlato, che c'è stato un incontro e così via. C'è stato l'ultimo tentativo di introdurre una regolamentazione di questo tipo è stato fatto durante il periodo del governo Draghi, è stato approvato da un ramo del Parlamento ma non dall'altro, bisognerebbe ripensare un po' le questioni. Poi su questa cosa delle spese, cosette spese fiscali, queste deduzioni e detrazioni, qual è il problema? Il problema è che di nuovo dir di no a un certo gruppo ci fai brutta figura. Adesso vi faccio un esempio, io ero nella commissione finanze e un certo giorno viene il professor Mare, forse non lo conoscete, ma è l'esperto, migliore esperto in Italia di queste agevolazioni fiscali, raccontate tipo 626 a favore di un certo gruppo o un altro. 600 violazioni fiscali rendono la vita impossibile per chi deve amministrare un sistema di trassazione, il sistema diventa estremamente complicato, pensate anche al lavoro dei commercialisti, dai lavori commercialisti, ma addirittura i commercialisti si lamentano che è troppo anche per loro. E quando viene il professor Mare a raccontarci questa cosa tutti i membri della commissione finanze, una ventina dei senatori, tutti d'accordo, basta non se ne può più di questa agevolazione, bisogna semplificare il sistema di trassazione, perché così le imprese stanno meglio, i commercialisti stanno meglio, l'Italia sta meglio. Il giorno dopo arriva in commissione finanze un provvedimento in cui si propone un'agevolazione per le bande musicali amatoriali. O tutti a dire che sì bisogna votarlo, assolutamente, e io tiro la sua manina e dico ma scusate ma ieri avevano detto che ce n'erano troppe. Cioè bisogna saper resistere alle persone, ogni interesse, chi è che ce l'ha contro? Qualcuno qui è contro le bande amatoriali musicali? Nessuno. Ci metterà questi vostri soldi? Facciamo la raccolta, lì fuori voglio vedere quanti mettono i soldi, però il sistema della trassazione fuori, perché quando, siccome la gente non riesce a raccogliere spontaneamente questi soldi va a chiederle allo Stato. Allora, al loro Stato nessun parlamentare può fare la figura di aver detto di no alle bande musicali amatoriali. Allora, e qui tutto questo ci porta ad aprire... C'è qualcuno qui che suona del bambino? Abbiamo offeso. Tutto questo, dicevo, tra l'altro sono 628 esattamente le agevolazioni fiscali. No, 626 sono 628. Quindi insomma, ecco ci porta ad aprire un'altra porta, che è la questione un po' al cuore che riguarda la fuga dalla politica, la scarsa partecipazione al voto, la crisi proprio della democrazia. Le faccio una domanda, non mi ricordo quale inglese, che si riferiva alla Chiesa, lui, diceva, ma è la Chiesa che si è allontanata dai cittadini o sono i cittadini che si sono allontanati dalla Chiesa? Io le chiedo, sono i cittadini che si sono allontanati dalla politica? Ricordo che noi abbiamo ormai una tasso partecipazione del voto al 63%, la media riporta proprio nel libro, sono tutte ben documentate, la media è 70% nell'Unione, credo, 74% nell'Occidente, quindi siamo, solo il Canada vota meno di noi, noi eravamo un popolo che invece votava molto. Ecco, è la politica che si è allontanata dai cittadini o i cittadini si sono allontanati dalla politica? Mi risponderò ovviamente con una vostra domanda di Marzullo. Faccio la domanda e si dà una risposta. Allora, io credo che i cittadini si sono allontanati dalla politica perché sono rimasti delusi dalla politica. Allora, io ho avuto un esempio molto evidente di questa sensazione di delusione, anzi più che delusione, della politica quando facevo campagna elettorale. Un giorno, lo racconto nel libro, stavo a Mantua, era l'ora di pranzo e io avevo finito di mangiare prima dei miei colleghi, avevo ancora un po' di cartoline elettorali da distribuire. Non c'era molta gente in giro alle 13, la gente stava mangiando però vado comunque a vedere se trovavo qualcuno e sotto un potico di fronte a una gioielleria c'era una guardia giurata. Allora io mi avvicino con un gran sorriso e dico buongiorno, sono Carlo Cottarelli, sono candidato alle prossime elezioni e le vorrei dare la mia cartolina elettorale. Questo mi guarda con la faccia scura e dice, io li impicherei tutti. Allora, avendo poi una guardia giurata agli strumenti per porre in atto i propri desideri in questo campo, mi sono detto, mi scusi, non voglio disturbare, sono andato via. Ma quanta gente ha incontrato nei mercati, non mercati finanziari, mercati regionali dove andavano distribuire questa cartolina che mi diceva, io non vado più a votare perché tanto sono tutti uguali. Questa è l'idea. Però è un po' facile dire tanto sono tutti uguali, se non vai a votare stai comunque lasciando la scelta di tutti gli altri, che saranno tutti uguali ma forse non sono proprio tutti uguali, la stai lasciando a qualcun altro. In linea di principio la nostra Costituzione dice che ha un dovere andare a votare, questa idea mai si è persa. C'è stata addirittura una sentenza della Corte Costituzionale che ha detto più o meno che non andare a votare è comunque esprimere un proprio giudizio politico. Capite, a me preoccupa questa situazione. Di nuovo per citare Montesquieu, Montesquieu diceva che il pericolo principale di una democrazia è l'apatia dei cittadini. Una domanda più generale. Ricordo un libro di Lucio Colletti, Il tramonto delle ideologie, che lì per lì quando lo leggemmo all'università ci sembrava, ma che dice Colletti? In realtà si è verificato esattamente questa cosa, i partiti si sono spappolati completamente, si è in una fase in cui non c'è più nessuna mediazione tra leader e base. Come se ne esce? E se ci sono esempi nel mondo che funzionano invece rispetto all'Italia? Perché la tendenza mi sembra internazionale. No, però non è forte ugualmente in tutti i paesi. Noi insieme alla Grecia siamo il paese dove la tendenza all'assenzionismo è stata più forte tra il 1992 e le ultime elezioni. Noi e la Grecia, che sono i due paesi che economicamente hanno fatto peggio negli ultimi quarti di secolo, quindi forse è da lì che deriva questa... È un caso, forse. Ora, cosa bisogna fare? Io ho una serie di 14 suggerimenti, poi non sono un esperto di scienze politiche, quindi lo buttate lì così prendetele per quello che sono. Io credo che sarebbe giusto, per esempio, tornare alle preferenze. A me piacerebbe scegliere la persona che mi rappresenta in Parlamento, non poter mettere soltanto una crocetta del singolo del partito. Come sarebbe... E se si ricorda però furono tolte quando c'erano quattro? Perché poi gli italiani si scorda, furono tolte a furor di popolo, basta con le preferenze. Insomma, ci sarà pure qualche altro modo per aggirare queste cose, poi quanto frequente era quel problema? Forse abbiamo rinunciato e per risolvere un problema ne abbiamo creato uno più grosso. Perché lì c'era la possibilità di controllo del voto. Sì, è vero, pensiamo un modo che risolve questo problema. Per meno preferenze si riusciremo. Allora, comunque, il... ma poi non so quanto frequente era questo problema, abbiamo tolto a tutta Italia la possibilità di scegliere soltanto perché c'era qualche caso di questo tipo, non so quanto fossero diffusi. Inaspriamo le pene per qualcosa di questo genere. Poi l'altra cosa che mi sembrerebbe giusto è, e questo è stato l'oggetto dell'unico disegno di legge a mia prima firma che ho presentato in Parlamento, per dare un po' più di credibilità ai programmi elettorali, obblighiamo i partiti politici a indicare nei loro programmi elettorali non soltanto quello che vi promettono ma da dove prendono i soldi. Perché altrimenti, capite, è troppo facile dire, io vi prometto, andate in pensione prima, vi taglio le tasse, aumentiamo la spesa sanitaria e poi arriva il governo e dice, ah non ci sono i soldi, ma non lo sapevi prima che non c'erano i soldi? Se voi aveste un amministratore di condominio che vi dice, facciamo l'ascensore nuovo, ma non vi dice da dove prendo i soldi, ma voi volete, resta un amministratore di condominio così? No. Però invece teniamo, ci sembra normale che i politici fanno programmi elettorali di questo genere, non si dice mai dove prendere i soldi, è legittimo dire io i soldi li prendo a prestito, aumento il debito, va bene, ma lo devi dire, lo devi dire, oppure devo dire io aumento queste tasse e taglio queste spese, altrimenti non è troppo facile, è una presa in giro. Ovviamente il disegno di legge lo scrive nell'Immo. Non si è mosso di un centimetro. Non solo è stato bocciato, non è stato proprio discusso questo, è tagliato. Io credo che nessuno oserebbe in Parlamento opporsi a una cosa di questo genere, soltanto che non lo fanno partire. E certo, non la portano a discussione. Ogni tanto è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato e non è mai stato, come si dice, incardinato. Io sto pensando magari all'avvicinarsi alle prossime elezioni prima, non so, un anno, due anni prima di lanciare un'iniziativa di raccolta di firma per trasformare questo in una legge di iniziativa popolare, diventa un po' più difficile dire di no in quel caso, neanche far partire la discussione. Dal dopoguerra oggi non c'è stata una legge di iniziativa popolare che è passata in Parlamento. Eh, lo so. Io sono stato promotore di un'iniziativa di questo tipo e... E allora facciamo la rivoluzione. Facciamo la rivoluzione. Allora io andrei al lato B, al lato B, cioè il lato B, chiamato così nel libro, proprio lui racconta l'esperienza dell'incarico e di tutta la vicenda, raccontando anche parecchie retroscena, che è finora inediti, che non aveva mai, insomma, espresso in maniera... E infatti intitola proprio quattro giorni su e giù per il colle. Allora, Cottarelli, che è successo a un certo punto? No, è successo... Io sono stato chiamato per formare un governo, cioè non sono cose che capitano tutti i giorni, neanche... poi non me l'aspettavo questa cosa. Per cos'era... qual era il... in quale contesto si inseriva questo episodio? C'erano state le elezioni al marzo del 2018, nessuno aveva vinto. A un certo punto Lega e 5 Stelle decidono di fare un governo populista, era il classico inciucio, diciamo, come direbbe Salvini, però ha fatto lui l'inciucio con i 5 Stelle, e scelgono Conte come Presidente del Consiglio, che riceve l'incarico. Conte si presenta da Mattarella con l'elenco dei ministri domenica 27 maggio 2018 e Mattarella vede nella lista dei ministri come Ministro dell'Economia il nome di Paolo Savona, ottimo economista, ma considerato a torta ragione dai no euro come una bandiera del loro desiderio di uscita dall'euro. Mattarella, che è il Presidente che nomina i ministri, su proposta dal Presidente del Consiglio, dice no io non lo posso nominare, mi sembra troppo rischioso, scegliete un altro, ci sono 58 milioni di italiani ma soltanto questo volete, sono tanti bravi professori, e questi si impuntano. E che fa venire il sospetto che proprio volessero avere qualcuno che può portare fuori l'Italia dall'euro, rafforzando la posizione di Mattarella. Mattarella si presenta in televisione dicendo che presto avrebbe annunciato il nome di una persona che avrebbe portato, un tecnico che avrebbe guidato un governo neutrale per portare il Paese a nuove elezioni, per sbloccare l'impasse. E io sento questa cosa in televisione e spengo perché senza essere minimamente preoccupato, perché nonostante qualche giornale avesse citato in precedenza il fatto che io avrei potuto guidare un governo tecnico, il nome, perché se era già tre settimane prima, sembra già che si andasse in direzione un governo tecnico, il nome più quotato era quello di Elisabetta Belloni. Secondo il Corriere della Sera e Repubblica erano usciti in prima pagina con il titolo oggi parte il governo tecnico, presenta il Consiglio Elisabetta Belloni. E io ho detto, chiameranno Elisabetta Belloni. Era la segretaria generale della Farnesina? Era la segretaria generale. Oggi è la capa dei servizi segreti italiani. All'epoca era la segretaria generale della Farnesina. Io spengo la tv, vado nel mio studio a correggere gli esami dei miei studenti in Bocconi, poi dovevo farmi un piatto di lenticchie e guardare la televisione, Breaking Bad, due puntate e volevo vedere quella sera. Breaking Bad, altro che Breaking Bad. E ho appena finito di correggere i compiti dei miei studenti quando squilli il telefono. Tiro su e sento una voce che dice, buonasera professor Cottarelli, le posso passare il presidente Mattarella? E non è che uno può dire, no scusi richiamo i fonori, mi fa le lenticchie, che domande sono? E' ovvio che devo dire, si me lo passi. Poi temevo che fosse uno scherzo della zanzara di questi, prendo gli imitatori. Era Mattarella, la voce era quella e soprattutto diceva in grande dettaglio che cosa fare, che cosa avrebbe dovuto fare il governo tecnico. Nessun coinvolgimento con la politica, nessun ministro che avreste un parente politico, impegno a non candidarsi alle prossime elezioni, soltanto 4 mesi, 5 mesi per portare il paese a nuove elezioni. Se non c'era il voto di fiducia, si andava avanti lo stesso per l'ordinaria amministrazione che comprendeva portare il paese a nuove elezioni. E io accetto, accetto, fra l'altro non ero troppo emozionato in quel momento perché Mattarella ti mette a tuo agio anche. Metto giù il telefono, oddio mio che cosa ho fatto. Però ero da solo in casa. Uno chiama il familiare, ho chiamato mia moglie che stava a Washington, stava a Washington, non sapeva niente di questa storia. Immaginate, ciao mi ha chiamato Mattarella, domani devo andare a Roma a formare un governo. mia moglie risponde, mio Dio, non andiamo più in vacanza. E ora si aspetterebbe di sentire dire, siamo orgogliosi di te. Complimenti. E poi cominciano a arrivare un po' di telefonate agli amici, giornalisti, non dico niente, giornalisti, arriva a mezzanotte e uno dice devo fare la valigia. Comincio a fare la valigia e mi accorgo che avevo il rasoio elettrico che l'avevo dimenticato a Cremona. Che cosa fareste fatto voi? Quello che ho fatto io, sono uscito a mezzanotte, pensate che giorno dopo deve andare a formare un governo e a mezzanotte esce di casa per cercare un rasoio usa e getta. E dopo 20 minuti ho trovato un posto, aperto uno di questi posti aperti tutta la notte, sono entrato, a 12 mezzanotte e 20 c'erano 5-6 persone in fila. E io ho detto, mai fatto invitarmi a Mastolto, lo dico, lei non sa chi sono io. Mi sono frenato non per pudore, no ma semplicemente mi immaginate la scena che uno va lì, scusate non posso fare la fila perché domani devo andare da Mattarella a formare un governo. ma chiamavano l'ambulanza, avevo fatto la fila, ho fatto la fila e poi ho andato a casa, ho dormito poco quella notte, il mattino dopo ho arrivato a Roma, lì è scominciata questo tourbillon di eventi che sono durati 4 giorni e vogliamo passare alla fila, racconto che è successo, come è finita? Certo sì sì. No perché poi se racconto giorno per giorno fanno notte. No vabbè insomma. È la decisione finale. No allora la cosa, il punto cruciale è stato, è stato il secondo giorno, io sono arrivato il lunedì da Mattarella, mi ho detto più o meno le stesse cose, 24 ore dopo io mi sono presentato con la lista dei ministri nel pomeriggio e quando entro Mattarella mi dice, professor Cottarelli alla luce di quello che è successo, che sta succedendo, secondo lei c'erano fuori 100 giornalisti perché dovevo sciogliere la riserva e leggere la lista dei ministri alla luce di quello che è successo oggi. Pensa che dovremmo andare avanti con l'annuncio? E io ho detto, no dovremmo fermarci Presidente. Cos'era successo? Era successo che era partita nelle ultime 24 ore una feroce campagna contro il Presidente e i mercati finanziari si erano innervositi non poco dalla prospettiva di una campagna elettorale centrata sul tema dell'euro perché la rottura era stata lì e allora Grillo ha ricominciato a dire usciamo dall'euro, Di Maio diceva mettiamo in stato d'accusa il Presidente e allora chi investe in titolo e la campagna sarebbe stata basata sul tema dell'euro con i pro-euro, pro-uscita e contro e se poi vincevano quanti che volevano uscire, tu avevi prestato soldi allo Stato italiano in euro ricevevi indietro nuove lire e questo ha fatto aumentare i tassi di interesse. Martedì 29 maggio c'è stato l'aumento dei tassi di interesse in un giorno più forte della storia d'Italia, lo spread è aumentato di 100 punti base in un giorno, neanche nel 2011 e nel 2012 e di fronte a questa cosa ho detto Presidente dobbiamo fermarci perché è un governo tecnico che non avrebbe avuto la fiducia e avrebbe soltanto avuto i poteri dell'ordinaria amministrazione e non avrebbe avuto gli strumenti per affrontare una crisi finanziaria, non avrebbe potuto neanche chiedere finanziamenti dalla Banca Centrale Europea e allora io ho chiesto al Presidente di poter fare qualcosa di un po' diverso, ho chiesto al Presidente se potevo andare a parlare con Salvini e Di Maio per cercare di convincerli ad arrivare a un compromesso con il Presidente, cosa che ho fatto fondamentalmente usando un argomento, era quello di dire guardate io non posso abbandonare questo incarico, il Presidente me l'ha dato, se l'abbandono lascerei solo il Presidente, io vado avanti, però vi assicuro di una cosa, oggi lo spread è a 300, fra una settimana ce lo troviamo a 1000, non a 300, a 1000, a quel punto io me ne devo andare comunque e voi dovete comunque fare un governo di compromesso, perché con lo spread a 1000 non puoi mettere Savona come Ministro dell'Economia, tanto vale che lo facciate adesso il compromesso, facciamo partire il governo politico, io faccio un passo indietro e siamo tutti contenti, l'unica cosa dovete rinunciare ad avere come Ministro dell'Economia Savona e non mi sembrava un prezzo troppo alto da pagare per salvare, uscire da quella situazione, la logica ha funzionato con Di Maio, senza problemi, ma noi non ci eravamo resi conto che Savona potesse essere un problema, invece Salvini insisteva e Salvini ha continuato a dire no fino alla notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 maggio, qualcosa è cambiato in quella notte e nel mattino, non so cosa abbia cambiato a cambiare idea Salvini, forse gli imprenditori del nord che lo votano hanno detto no, non vogliamo avere una crisi, oppure stava semplicemente bluffando e voleva vincere il braccio di ferro col Presidente, perché secondo me era quello, era un braccio di ferro col Presidente sul ruolo di chi era eletto direttamente dal popolo rispetto a chi non era stato eletto al popolo e che ha implicazioni molto grosse per la riforma del premierato, il mio libro ha implicazioni piuttosto importanti per questa riforma, fatto sta che Salvini ha cambiato idea, nella mattina di giovedì 31 maggio il Quirinali mi ha informato che si stava andando verso una soluzione, le agenzie stampa hanno cominciato a battere la notizia che Conte stava tornando a Roma e il compromesso era stato trovato, il compromesso comportava che Savona rimaneva nel governo ma non come Ministro dell'Economia ma come Ministro per i rapporti con l'Europa che all'epoca non era proprio, adesso un po' più importante c'era Fitto, c'è il PNRR ma non era molto importante all'epoca e a fare il Ministro dell'Economia è stato chiamato TRIA, non è durato molto perché il governo non è durato molto e allora io sono andato, c'era ancora un passo, io ho prima informato mia moglie che sarebbe andato in vacanza, poi c'è stato un passo fondamentale, formale che dovesse però compiuto, io dovevo andare a restituire l'incarico perché Mattarella non poteva dare l'incarico a qualcun altro se io non andavo a restituirlo, allora sono andato nel pomeriggio del 31 maggio a restituire l'incarico e lì c'è stata una scena che mi ha toccato particolarmente, mi inorgoglisce anche adesso, il Presidente Mattarella mi ha ringraziato perché in fondo si era raggiunto l'obiettivo, non doveva andare a elezioni, non doveva far partire un governo politico accettabile, mi ha ringraziato, il Professor Cottarelli la ringrazio e mi ha detto la Repubblica è in debito verso di lei. Poi siccome noi economisti siamo sempre un po' maligni, io ho subito pensato la Repubblica è in debito verso di lei, con tutto il debito pubblico che c'ha la Repubblica italiana, andiamo a giungercene ancora un po'. Allora professore, se andiamo proprio verso la chiusura, però succede qualche cosa che è citata nel libro di Strano, vorrei capire secondo lei perché è successo, il governo degli spendaccioni, c'era 5 Stelle e Lega, però alla fine fa un deficit solo dell'1,9 pure 6, pure 6. Avercelo oggi, cioè questi fanno, reddio i cittadini a piti 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 va e abbiamo un deficit, attenzione, debito pubblico è una cosa, il deficit è un altro, diciamo che il debito pubblico è una somma di deficit, dei debiti fatti anno dopo anno. Però dell'1,6 che è lì che è la stranezza di questa cosa? Allora c'erano state due cose, uno è loro hanno presentato un deficit più elevato, poi la Commissione Europea ci ha messo dei paletti e lì c'è stato inizialmente, Conte aveva fatto, aveva presentato una legge di bilancio con un deficit del 2,4%, poi a un certo punto ha dovuto fare passi indietro, si sono inventati questa cosa mediaticamente del 2,04, perché questo qui 0,4 sembra 2,4 in fondo non abbiamo cambiato molto, ci ha messo soltanto uno zero di mezzo. Ma poi nell'esecuzione secondo me i politici lì sono stati un po' imbrogliati dai tecnici. La ragioneria generale dello Stato ha cominciato a fare delle previsioni sulle entrate molto pessimistiche, previsioni sulla spesa pure molto pessimistiche, per cui ha detto guardate qui non possiamo permetterci, siccome molti di questi non hanno la capacità tecnica di andare a capire i numeri, si sono lasciati, questa è la mia interpretazione. La ragioneria generale dello Stato era guidata da Daniele Franco che poi è diventato ministro dell'economia, poi lo stesso sotto Draghi e poi lo stesso Tria, uno abbastanza prudente con i conti pubblici, era stato messo lì a posto per tenere un po'. Il fatto sta che ci avessimo adesso un deficit, adesso il deficit pubblico quest'anno chiudiamo al 3,8%, il prossimo anno l'obiettivo è 3,3% e quelli stavano all'1,6%. Questo perché durante il Covid era necessario aumentare la spesa pubblica anche tantissimo, però proprio a quel punto lì abbiamo fatto passare tutto, compreso il superbonus 110%. Chiudiamo l'incontro, intanto non vi aspettavate che un economista fosse così simpatico e così spiritoso da ridere sui episodi veramente divertenti. Intanto grazie anche per questa cosa perché con tutti i problemi che abbiamo qualche momento anche di rilassamento. Gli faccio un'ultima domanda che è quella diciamo il filo rosso che tiene tutto il pirata della bellezza di quest'anno. Per quanto riguarda la parità di genere, nel mondo economico come siamo messi? Le faccio un esempio del mondo nostro, dei giornali. In realtà diciamo se uno va a vedere in percentuale la professione si declina tutto al femminile, molto al femminile. Poi man mano che si va nei piani più alti di direttore di giornali ce ne sono molto pochi per esempio in Italia. Allora a mio vantaggio posso dire che nel mio ministero, nel governo Cottarelli c'erano 8 donne e 5 uomini. La parità di genere è opposto. Vabbè mettendoci anche il sottosegretario Presidente del Consiglio con 14 erano 8 donne contro 6 uomini. Qual è la situazione? Dipende da paese a paese. In Italia siamo ancora indietro. Quando sono tornato in Italia una seconda volta cioè fine 2017 ero stato invitato a una conferenza mi sembra dall'Aspen Institute a Milano e ero arrivato abbastanza presto, ero tra i primi arrivati, per cui mi sono messo lì a lavorare, a scrivere. A un certo momento, prima che iniziassi il convegno, erano passati 15-20 minuti, tiro sulla testa e mi accordo che erano tutti uomini. E questa cosa mi ha colpito molto perché invece negli Stati Uniti non è così, ha compreso il Fondo Monetario Internazionale. Proprio mi ricordo questa sensazione di dire ma c'è qualcosa di strano in questo paese. E non è che dal 2017 le cose sono cambiate molto. In parte è un fattore culturale. In che senso? Nel senso che c'è stato un sondaggio fatto, tra l'altro dal Ministero dell'Economia per preparare il cosiddetto bilancio di genere, qualche anno fa questo sondaggio diceva che il 52% degli italiani, ma non è molto tempo fa, sto parlando di 2-3 anni fa, il 52% degli italiani pensavano che il posto giusto per le donne fosse la famiglia e la casa. C'è un grosso problema culturale. Poi ovviamente c'è il fatto che non si spende abbastanza per gli asili nido. Questo governo ha messo un po' più di soldi per gli asili nido, però è anche lo stesso governo che ha rivisto verso il basso l'obiettivo che nel PNRR c'era di aprire 264 mila posti di asili nido e scuole per l'infanzia, l'ha ridotta a 150 mila posti e quindi c'è tanto, c'è tanto ancora da fare, non c'è dubbio. Lo stiamo messi bene insomma. Non molto. Grazie. Grazie.